Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Nella stessa carreggiata si viaggia in coda tra Calenzano e il bivio A1 variante. In Fipilin in direzione Livorno si viaggia in coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino e tra Empoli Est e San Miniato. In direzione opposta tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Ricordiamo che sono in corso in Fipilin i lavori di riqualificazione tra Montelupo e Empoli Est. In questa fase dei lavori fino al 30 maggio è previsto il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze con la completa chiusura della carreggiata in direzione mare. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie! Grazie!